Stop Loss e Backtesting nello Spread Trading. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questa nuova lezione e voglio farvi vedere una interessante caratteristica, una funzionalità di Seasonalgo in particolare per andare a vedere cosa storicamente, quindi facendo Backtesting cosa accadrebbe ai nostri Spread nel caso in cui mettessimo uno Stop Loss. Allora, andiamo a vedere un po', vi faccio vedere prima alcune idee e proposte di Spread Trading che ci propone Seasonalgo, voglio farvi vedere anche ragazzi che partiamo un attimo da aprile andiamo a vedere, vi faccio vedere che comincia a tornare un po' di stagionalità sulle materie prime non su tutte le materie prime, quindi vi inviterei a tenervi alla larga ancora da alcuni settori per esempio il settore energetico, soprattutto il crude oil, ma guardate come la soia da aprile già con lo Spread Trading si sta comportando bene, guardate questo è uno Spread a ribasso e vedete che a parte la volatilità, il soia Binoil è sempre molto volatile, vedete che è andato c'è stato un ottimo profitto, questa era l'entrata e questa era l'uscita, questa era ZL vi faccio vedere anche il Live Cattle, ottobre-febbraio, anche questo in vendita e vedete come a parte questo triplo massimo che si è creato, il prezzo poi è sceso molto anche questo è andato in profitto, anche se mancano pochi giorni alla chiusura questo è uno Spread sul Copper, quindi sul rame, ma è rialzista ed è ovviamente da prediligere soprattutto in questo momento di grande forza del rame e anche questo, guardate questa è la giornata di entrata, questa qui è la nostra uscita e quindi questo è il profitto che ci siamo portati a casa, vedete che quindi stanno tornando le stagionalità questo è il Natural Gas, Natural Gas è un pochino, essendo un energetico come vi dicevo prima è un pochino più capriccioso, questa è l'entrata, la stagionalità è lunghissima, guardate qui e vedete che comunque sta tornando un po' ai prezzi di ingresso questo è Aprile ma vi posso far vedere anche Maggio, guardate qui Maggio, ve ne faccio vedere alcuni ancora un altro Spread sulla soia, sul Corn, scusate, a Maggio e questa è l'entrata, per ora vedete che è in profitto perché il prezzo è sceso andiamo a vedere le carni, il Life Cattle, questa era l'entrata sempre in short ed ecco qui che dopo che il prezzo è tornato indietro è crollato e questo è stato un bellissimo profitto sulle carni, sul Life Cattle vi faccio vedere l'Inox, ancora il settore delle carni che si sta muovendo in realtà un pochino più lentamente questo è il Natural Gas, per farvi vedere, vedete ragazzi, la stagionalità sta comunque tornando andiamoci a prendere un attimo una proposta di quest'anno, giugno di questo mese, scusate e andiamoci a prendere il, andiamoci a prendere un Corn, potremmo? eccolo qui, un Corn che sta per entrare in stagionalità andiamocelo a vedere bene allora questo è uno Spread che mette in relazione il mese di Dicembre con il mese di Maggio è uno Spread in vendita questa è la data di entrata e questa è la data di uscita è molto ampio perché si entra a metà giugno e si esce praticamente a inizio Dicembre quindi di tempo ce n'è veramente tanto, non dobbiamo affrettare l'entrata e vedete che siamo arrivati vicino al giorno sapete, insomma, noi non entriamo mai quando ce lo dice la stagionalità ma entriamo nel momento in cui ci sono dei segnali e vi ho fatto vedere alcuni modi per andare a calcolare lo Stop Loss possiamo andare a vedere il Backtest e dal Backtest voi sapete che vi andrà a prendere le tabelle di Drawdown quindi vi andrà a vedere qua quali sono stati i Drawdown che si sono verificati potete andare a vedere i Worst avete il file Excel per calcolarvi le medie togliendo gli Outliers e qui vedete che la distribuzione andiamo a vedere qui la distribuzione dei Drawdown questo è il Leverage Drawdown vedete negli ultimi 5 anni è di circa meno 393 dollari negli ultimi 10 anni è di meno 540 negli ultimi 15 è di meno 497 quindi potremmo dire, facendo una media di questi 3 Drawdown che uno Stop Loss potrebbe essere intorno ai 500 dollari vedendo i Drawdown massimi che si sono verificati ora, 500 dollari che cosa vuole dire dal punto di vista del grafico? adesso vi faccio vedere anche un altro modo per andarvi a calcolare usando la Standard Deviation o lo Stop Loss e potrebbe voler dire, immaginate che questa sarà la nostra entrata di prezzo perché dico quella? perché qua ci sono un paio di... guardate qui c'è una prima struttura qui ce n'è una seconda quindi in mezzo qui potrebbe esserci effettivamente la nostra entrata quindi immaginate che questa è la nostra entrata short quindi entriamo in vendita con quel prezzo andiamo a vedere dove... quindi da qui a 500 dollari questi sono 356 eccolo qua, 500 dollari quindi vuol dire che con un'entrata a meno 2,90 di prezzo la nostra uscita sarebbe a meno 1,55 quindi vuol dire che se lo spread si muoverà anche un po' contro di noi vedete che lo spread entra in stagionalità nell'ultima metà della sua durata ecco perché non entrerei nemmeno all'inizio comunque se dovesse continuare a venirci contro finché non arriva a questi valori noi non prendiamo lo Stop Loss questo vuol dire un altro modo per vedere lo Stop Loss guardate usare... mi copio e incollo questa stringa e siamo sul caffè torno qua dentro su Spread Chart che è un altro software che vi ho fatto vedere vado dentro Chart copio e incollo qui la mia stringa che ho incollato prima che altro non è che il coffee con la sottrazione delle due scadenze e qui vado su Price vedete apro Price e vado su Seasonality Average faccio clic su Chart mi faccio disegnare il grafico ma questa volta sul grafico ci metto una cosa importante guardate vi metto un attimo gli ultimi due anni tanto non mi interessa andare più indietro qui abbiamo la linea rossa e la media 5 anni la linea verde è la media a 15 anni la media a 30 la tolgo non mi interessa la linea blu è invece il prezzo attuale dello spread del caffè mettiamo un attimo 5 anni no troppo 5 anni lasciamo 2 anni mi vado a mettere le Standard Deviation a 5 anni calcolate sulla media e calcolate a 15 anni bene vedete noi adesso ci troviamo a giugno andiamo a vedere un po' a giugno come si è mosso lo spread vedete che qui siamo 2021 andiamo a vedere nel 2020 come si è mosso a giugno lo spread eccolo qua guardate quanto per esempio qui siamo a luglio vedete come la deviazione standard è molto ampia della media quindi il prezzo si trova molto più in basso questo vuol dire rispetto alla media 5 anni a quella 15 anni il prezzo attuale l'anno scorso del caffè si trova molto a ribasso quest'anno no quest'anno vedete che si è praticamente molto allineato quindi potremmo dirci potremmo calcolarci con questo strumento seleziono qua lo strumento di Profit and Loss Calculator e dirci se il prezzo dovesse andare a toccare la deviazione standard quindi da qui alla parte più alta della deviazione standard che è quella verde vedete questa fase qui vediamo il punto più alto qua quanto sarebbe? 967 dollari quindi è maggiore di quella che ho calcolato io quindi diciamo io guardando il drawdown peggiore degli ultimi 15 anni avevo calcolato 500 questo mi da 967 e quindi potrei per esempio fare una media 500 e 967 le sommo faccio diviso 2 e stiamo intorno ai stiamo intorno il valore mediano tra questi due potrebbe essere intorno ai 700 dollari ok? bisogna vedere se il vostro se il vostro money management ve lo permette ma nel caso in cui ve lo permetta tornate qui questa è la funzionalità che vi volevo far vedere torniamo sullo spread di prima in season algo vado su advanced backtester e faccio create task quindi qua metto come task test mettiamo copper copper backtesting BK qui non metto il profit target non mi interessa lo vado a vedere negli ultimi andiamoci a vedere negli ultimi 30 anni stop loss metto fisso e qua metto abbiamo detto 700 dollari quindi adesso io lo faccio creare faccio clic su Q lui mi crea il task e mi va a fare un backtesting andando a vedere con uno stop loss fisso a 700 dollari che cosa sarebbe successo in passato al mio al mio spread qui guardate ne crea un altro perché ne crea un altro mettendo il come come stop loss lo stop loss massimo come leverage worst ok qua metto ancora copper qui metto copper BK2 faccio clic su Q ok e vi faccio vedere andare su task e adesso avete i task eccolo qua questo era il primo task cosa è accaduto nel passato guardate nel passato accade questo gli ultimi 5 anni con lo stop loss fisso a 700 dollari avrei per 4 anni vinto quindi una win rate delle 80% sarei andato in profitto e avrei perso una volta ok avrei fatto un profitto totale di 300 dollari negli ultimi 10 anni avrei avuto 8 profitti e 2 perdite con un totale profitto di 1143 dollari ok negli ultimi 15 anni 87% quindi 13 quindi vuol dire che tra i 10 e i 15 anni avrei preso solo 2 stop loss e qua vedete la tabella del backtesting quindi è il 2020 è proprio l'anno scorso che avrei preso lo stop loss a meno 700 e quindi sarebbe scattato questo 2019 2018 2017 in profitto ok in profitto e questi sono i profitti 75 dollari 243 862 656 eccetera 2011 la seconda perdita meno 700 dollari andiamo a vedere dentro task invece con non uno stop loss fisso ma uno stop loss basato sulla media delle peggiori perdite vedete che effettivamente mi sarei risparmiato uno stop loss negli ultimi 15 anni cioè avrei avuto 4 profitti nei 5 anni su 5 9 profitti su 10 nei 10 anni e 14 profitti su 15 quindi l'unica perdita di 245 dollari l'avei presa nel 2020 quindi questo backtesting mi dice che probabilmente usare uno stop loss di usare uno stop loss non fisso ma variabile a seconda della media che questa è la media leverage worst mi avrebbe portato a prendere più profitti e prendere meno stop loss questa ragazzi è una funzionalità molto potente che volevo farvi vedere si aggiunge quindi al nostro modulo didattico sullo spread trading e valgono ovviamente tutte quante le considerazioni per le nostre entrate quindi andatevi a ripassare tutte quante le strategie meccaniche con i segnali di entrata quando entrare dove come calcolare lo stop loss come calcolare il take profit ma volevo farvi vedere questa funzionalità l'advance backtester di Seasonalgo perché ancora non l'avevamo vista e secondo me era importante bene direi che per oggi è tutto io vi ringrazio per l'attenzione noi ci vediamo alla prossima lezione al prossimo webinar in diretta buon trading a tutti ciao